E' cominciata la festa di San Giuseppe, patrono di Bagheria. Siamo andati alla conferenza stampa di presentazione, dove abbiamo ascoltato il sindaco, l'assessore Rominaiello, padre Giovanni Lamedola e il presidente della confraternita Sergio Cannizzaro. Qual è il valore sociale oggi della festa di San Giuseppe? L'ho detto poc'anzi iniziando questa conferenza stampa, la festa del patrono di una città, del patrono San Giuseppe di Bagheria in particolare, non può ridursi soltanto all'elemento religioso e complementare l'elemento culturale, l'elemento sociale, perché Bagheria ha bisogno di rinascere, di crescere e di credere nella sua rinascita. San Giuseppe è patrono di Bagheria e patrono di tutta Bagheria e abbiamo proprio puntualizzato questa realtà. La festa non è soltanto un elemento festaiolo, soltanto populistico, la festa vuole essere un ricredere alla speranza e Bagheria ha molto bisogno di credere nella sua rinascita politica, sociale, culturale e perché no anche religiosa. Abbiamo fatto appello e ho lodato questo comitato, questo impegno concreto di lavorare tutti insieme, amministrazione, confraternita, ecco chiesa e realtà sociale. Bagheria ha bisogno di questo, non di isole, non di contrapposizione, neanche di compromessi, ha bisogno di fattiva solidarietà e questo dobbiamo pregare San Giuseppe che convinca tutti ad amare Bagheria perché Bagheria possa ritornare quel paradiso di edilizie descritto nei secoli passati da tanti scrittori, poeti ed artisti. Che importanza ha la festa per riscoprire il valore di una comunità come la nostra? La festa è molto importante perché riesce a mettere assieme tutti quegli elementi che contraddistinguono la nostra città, quindi ci saranno eventi dedicati allo sport, alla tradizione, alla cultura, alla valorizzazione dei beni monumentali, alla gastronomia, alla musica, tutti questi elementi servono proprio per consolidare quelli che sono gli aspetti importanti della nostra città e quindi il valore sociale e culturale che è in grado di esprimere Bagheria. Ma soprattutto questi elementi servono per mettere insieme la nostra città, i nostri cittadini e creare quel senso di comunità che Bagheria ha bisogno di trovare e di valorizzare. Già da aprile abbiamo programmato e organizzato vari eventi proprio per trovare i fondi e per organizzare quello che era il programma, anzi ringrazio la confraternita e tutte le associazioni che stanno dando una mano per far sì che questa sia una festa importante. Il comune di Bagheria sta impegnando a valere sui propri fondi comunali 13.000 euro e ci sarà ovviamente tutto quello che contraddistingue da sempre la festa di San Giuseppe, quindi i giochi pirotecnici, i tamburinai, la banda, ci saranno i carretti siciliani, insomma tutti questi elementi. In più grazie appunto all'impegno delle associazioni e della confraternita di San Giuseppe si è riuscito a raccogliere altri soldi, altri fondi che serviranno proprio ad arricchire anche agli sponsor, chiaramente alle varie aziende che hanno dato una mano e che ringraziamo sicuramente. State lavorando per riportare il palio, cioè la corsa dei cavalli per la festa di San Giuseppe, c'è qualcosa di concreto, una cosa in cui si può sperare realmente di riportare, è una cosa che si può sperare realmente di realizzare nel futuro? Allora siamo a un livello programmatorio, nel senso che già da quest'anno abbiamo avviato un'analisi e quindi uno studio di tutti quegli atti che servono per autorizzare un evento di questo tipo, togliendo quindi tutte quelle deviazioni che ci sono state magari nel passato anche in altri pali in Sicilia e rispettando l'animale e quindi curando anche la tutela dell'animale dove ormai ci sono appunto molti decreti e quindi ci sono molte restrizioni e ovviamente la sicurezza di chi deve partecipare. Quindi è un'iter abbastanza lungo che stiamo avviando insieme alla confraternita proprio per far rivivere questa tradizione che per molti bagheresi che magari hanno qualche anno in più è un elemento importante della festa di San Giuseppe. Anche per chi tornava magari, per chi ritorna proprio ad agosto e quindi questo è uno dei motivi per cui ad agosto viene fatta la festa del patrono, magari può rivivere e rivedere, rivivere quel passato e questo è importante per rivivere proprio le emozioni della festa di San Giuseppe di una volta. È un programma ricco di eventi e di manifestazioni, abbiamo cercato di avere un occhio di riguardo verso tutte quelle che sono le componenti della cittadinanza bagherese, saranno arricchite tutte le serate dal giorno 4 al giorno 8, le serate saranno composte da contributi delle scuole di danza, da contributi delle scuole di canto, da contributo di una compagnia teatrale e in chiusura avremo la lab orchestra con la partecipazione di Minutelle e di Pandolfo, mentre invece lunedì avremo la componente cabarettistica di Toti e Totino con l'accompagnamento musicale del nostro concittadino Francesco Martorana. Mentre invece nei pomeriggi sono previsti sia la sfilata dei carretti siciliani, sia un memorial dei tamburinai in onore di Gagliano, è previsto un torneo sportivo, ma la cosa dal mio punto di vista più interessante, per la quale ringrazio doverosamente il signor Lomedico, è l'organizzazione di un corteo settecentesco con la sfilata di alcune carrozze e la presenza di alcuni figuranti in costume per i quali è doveroso ringraziare Cultura Lab che ci sta fornendo i abiti in questione, nonché ovviamente tutti i figuranti che nonostante il caldo si presteranno a questa manifestazione. È previsto anche uno spazio per i bambini dove faremo dei giochi nel cortile della scuola Cirincione per adulti e per bambini, in realtà saranno prevalentemente giochi tradizionali perché l'obiettivo della festa è proprio quello di ricordare e tramandare le tradizioni e dopo di ciò ovviamente sono previsti i fuochi d'artificio che come ogni anno nel bene e nel male non possono mancare all'interno della festa. Io credo che Bagheria in realtà abbia molta buona volontà e molta voglia di partecipare. La collaborazione non consiste soltanto nella collaborazione economica perché nei cinque giorni della festa, sì è vero, ci vogliono i soldi per pagare gli spettacoli, per dare il proprio contributo, per acquistare il necessario, per le luminarie, per i service, ma è anche vero che ci vogliono anche tante energie, tante energie come dicevo poc'anzi per fare materialmente un corteo con chili di stoffa addosso, tante energie per organizzare i giochi per i bambini. Posso dire che a Bagheria questa passiona non manca e questo entusiasmo non manca, semplicemente i cittadini hanno bisogno di essere messi nelle condizioni di poter essere agevolati in quelle che sono le loro ambizioni e aspirazioni che poi non sono altro che dare un contributo al proprio territorio. Noi come Comune abbiamo il dovere di metterli nelle condizioni di poter fare e poter dare questo contributo e questo abbiamo fatto tutta l'estate. Poter vivere il territorio anche. Esattamente, esattamente. Ci è sembrato dopo aver preso atto che ormai non è più possibile soltanto con fondi pubblici poter organizzare la festa. Abbiamo cercato di coinvolgere quante più componenti possibili proprio nell'ottica, che è quello che diceva poco fa anche il padre Giovanni, dell'unità. La festa è di tutta la città ed è una responsabilità di tutti e non è un merito o un demerito di qualcuno in particolare, del sindaco, della confraternita o di chi che sia, ma è la festa dei bagheresi e della festa di San Giuseppe, di cui noi ci onoriamo di essere, di avere il suo patrocinio. Nei tre giorni che precedono la domenica abbiamo organizzato, come già da anni succede, un triduo itinerante in vari quartieri della città e quest'anno abbiamo scelto la Punta Guglia e la nuova parrocchia di San Domenico sopra l'autostrada, proprio nell'ottica di coinvolgere tutti i luoghi della città. Anche la bagheria più periferica deve sentirsi parte integrante di bagheria. Integrante di bagheria, esattamente. E questo è un impegno che noi quest'anno abbiamo continuato ma che già da tanti anni abbiamo intrapreso, proprio in quest'ottica. La domenica invece il clou dei festeggiamenti, la processione attraverserà alcune strade principali del paese, e si concluderà Piazza Matrice, Corso Umberto e Piazza Matrice come di consueto. Sabato scorso si è svolta un'iniziativa all'Arcazzurro per promuovere l'apertura del cancello al pubblico. In questo momento per accedere al bene che tra l'altro è stato dichiarato sito di interesse nazionale, un geosito di interesse nazionale, bisogna citofonare ai proprietari delle ville vicine, farsi aprire il passaggio per poter scendere. Il sentiero è molto scosceso e quindi il bene risulta non fruibile alla collettività. L'iniziativa che è stata promossa da alcuni esponenti del Partito Democratico serviva proprio a sensibilizzare l'amministrazione e a scendere i fari, per così dire, sull'Arcazzurro per promuoverne la riapertura, come abbiamo detto. Abbiamo ascoltato Razia Menta, Gino Castronovo e Daniele Vella. Gino Castronovo, tu sei uno di quei consiglieri comunali del Partito Comunista che fu protagonista di questa battaglia di civiltà contro la mafia per l'abbattimento dell'ecomostro che qui sorse anni addietro. Qua c'è una denuncia che noi come gruppo comunista e come Partito Comunista facemmo il 5 e 8 del 1985 in cui denunciamo non solo che c'era qua, insistevo, un manufatto abusivo ma che nella costa c'erano diverse costruzioni abusive. Io sono qua stamattina per testimonare non solo l'impegno che i democratici stanno mettendo stamattina qua, ma anche in onore e in ricordo di quei consiglieri comunali che non ci sono più, tra cui vorrei ricordare l'onorevole speciale che fu il primo fermetario di questa denuncia, di Angelo Gargano, del nostro grande concittadino Peppuccio Tornatore che si intestò personalmente la battaglia per aprire gli sbocchi a mare a Bagheria. Ebbene, io stamattina sono qua per testimoniare un lungo impegno che c'è stato da parte della sinistra per consentire la fruibilità non solo di questo bene, ma del mare per i cittadini, non solo di Bagheria, ma di tutti quei turisti che vengono e trovano i cancelli chiusi. Quindi io, senza polegma e senza niente, dico al sindaco solo, cerca di consentire, di rendere fruibile questo bene perché la gente ha bisogno che questo sia un bene a servizio della collettività. Quali sono le prospettive per questo manufatto e perché non è stato aperto e quali sono le proposte che faresti se ricopriresti un ruolo di responsabilità oggi a Bagheria? Innanzitutto è utile anche dire che oltre all'impegno politico c'è un grande impegno tecnico che è stato messo in campo per l'abbattimento dell'ecomostro in tutta sicurezza. Era difficile abbattere l'ecomostro mettendo in sicurezza l'arco azzurro, era molto delicato questo procedimento e quindi vanno anche ringraziati Emanuele Doria, il geologo che ha lavorato, tutta l'equipe tecnica e i tecnici comunali che hanno fatto un egregio lavoro. Partendo da questo e dalle potenzialità quindi che ha anche il nostro comune, noi ci chiediamo perché adesso questo bene sia privato ai cittadini e sia privilegio per pochi. Non siamo qui per protestare contro l'amministrazione o fare una battaglia contro qualcuno, siamo qui per affermare invece che questa terra potrebbe vivere delle grandi risorse che ha, potrebbe vivere del turismo, potrebbe vivere delle meraviglie paesaggistiche, architettoniche e culturali che questa terra non ci ha, diciamo, lesinato. L'abbiamo in abbondanza, ne abbiamo veramente tante e quindi toccherebbe all'amministrazione valorizzarle. Io stesso più volte sono stato fermato da turisti che si sono chiesti all'ingresso dei francesi dove devo andare per scendere all'Arcazzurro e purtroppo mi sono vergognato dovendo dire dovete citofonare per chiedere di passare. E quindi cosa fare? È molto semplice, garantire per tutti un percorso che sia chiaro, sicuro, in regola per poter usufruire di questo bellissimo belvedere. Perché no? Pensare ad una maniera per la quale una cooperativa di ragazzi possa anche qui fare un'attività che possa essere ludica in tutta sicurezza, nell'estremo rispetto chiaramente di questa bellissima geosito, che è un geosito di interesse nazionale. Questo va sottolineato. Il nostro Arcazzurro è stato inserito nella mappa dei geositi di interesse nazionale. Quindi noi chiediamo all'amministrazione e offriamo all'amministrazione anche tutta la nostra collaborazione per venire qui, per studiare carte, per fare delle transazioni che non prevedano dei diritti per privati ma un diritto per il comune. E quando intendo comune intendo per tutti i cittadini di bagheria e non per il passaggio, per poter scendere in questo meraviglioso posto. È il primo atto da fare. Si dovrebbe convocare subito, e lanciamo qui noi la proposta come Partito Democratico, di convocare subito attorno a un tavolo tecnici e parti politiche per prendere questo come primo obiettivo dell'amministrazione. Se ne parla da tanto tempo di aprire l'arco. Probabilmente il passaggio più difficile tutti pensavano fosse l'abbattimento dell'ecomostro. Non è stato così. Abbattere l'ecomostro è stato fatto. Paradossalmente il passaggio più difficile è abbattere gli egoismi privati che ognuno di noi possibilmente ha e privano la città di poter soffrire di questa meraviglia. Noi raccogliamo le tante richieste da parte dei turisti, da parte dei residenti, da parte dei bagheresi che hanno visto sui giornali nel 2014, nel 2015 i programmi del sindaco e che si regano quotidianamente a frotte davanti ai cancelli qua sopra ma trovano chiuso. Chiedono di entrare, citofonano ai privati e gli viene negato. Noi stamattina siamo venuti qui con i giornalisti e grazie anche al vostro intervento siamo riusciti a scendere. Ma è una situazione intollerabile perché quello che state vedendo è un paradiso terrestre, una cosa straordinaria ma non solo dal punto di vista ambientale. Questo simbolo è un luogo della lotta alla mafia e dell'abusivismo sulla costa. Io voglio ricordare a tutti che 35 anni fa un gruppo di giovani consiglieri comunali, e qui presente abbiamo qualcuno, ebbe il coraggio di fare i nomi e i cognomi. Questa è una villa realizzata da un boss mafioso, Presti Filippo. Oggi è facile dirlo perché ci sono stati processi, è cambiato tutto, fare antimafia è quasi diventato uno sport nazionale, ma allora con i morti per strada era difficile fare nomi e cognomi e i nomi e cognomi li fecero. Dopo 35 anni c'è stata un'amministrazione in grado di acquisire questa villa abusiva, di abbattere la villa e grazie al contributo della regione di consolidare l'arca azzurro, vedete che qui era tutto il rischio crollo, è stato consolidato. Oggi però noi cittadini vogliamo che diventi fruibile e quindi non capiamo perché ancora i cancelli continuano a essere chiusi nonostante transizioni, nonostante i passaggi in consigli comunali, nonostante tutta una serie di passaggi che a noi ci sembrano semplicemente una perdita di tempo e in realtà non capiamo perché tutto questo paradiso debba essere ancora ad appannaggio dei soliti noti. Quali sono le cause ostative se si conoscono alla effettiva fruizione al pubblico di questo manufatto? Ma sappiamo che originariamente il comune aveva il diritto di passaggio su un'altra strada e su questo diritto di passaggio vi è stata un'avvertenza, diciamo, con dei comproprietari delle particelle vicine. C'è stata una transizione e il passaggio è stato spostato da un'altra parte. Sembrerebbe che ci siano problemi anche su questa parte perché altri proprietari si stanno opponendo. Però già nel 2013 il sindaco di allora, poiché qua ci sono tanti interessi, tra l'altro purtroppo siamo in una parte di costa dove ci sono tante ville abusive. Già il sindaco di allora disse, bene non riusciamo a metterci d'accordo con i proprietari, espropriamo il viottolo, espropriamo il cancello. Era il 2013, siamo al 2016 e nulla è stato fatto. In consiglio comunale si è discusso di raccolta differenziata. In queste settimane è l'argomento caldo. Sappiamo tutti che Bagheria sta uscendo a fatica da una crisi rifiuti difficile. Il Partito Democratico, grazie al consigliere Emanuele Tarnatore, ha fatto una proposta all'amministrazione, cioè di approvare un regolamento per il compostaggio domestico. Il 2 agosto si è tenuto un consiglio comunale in cui si è parlato di raccolta rifiuti, raccolta differenziata. Le tesi dell'amministrazione e delle opposizioni sembrano che si è parlato diametralmente opposte, però si sta cercando di dialogare e di arrivare a un punto d'incontro nell'interesse comune della buona riuscita della raccolta differenziata su alcuni punti. Voi avete avanzato una proposta a questa amministrazione, di che cosa si tratta? Intanto dobbiamo dire che il 2 agosto abbiamo chiesto noi un consiglio comunale straordinario per poter parlare di raccolta differenziata, perché da quando l'amministrazione ha dato inizio alla raccolta differenziata noi non sapevamo nulla, non c'era nessun atto scritto, nessuna ordinanza, né tantomeno il consiglio comunale è stato avvisato di quello che sta facendo. Quindi nel momento in cui chiediamo un consiglio straordinario per capire come sia organizzata l'amministrazione comunale e sapendo che tante sono le criticità che sono emerse in questi giorni di inizio della raccolta differenziata, però noi abbiamo voluto essere proprio positivi, cioè la raccolta differenziata appartiene a tutti, è una vittoria della città, dei cittadini, e allora è inutile fare, alzare barriere, a parte ripeto sottolineare le criticità che ci sono e bisogna dirle perché questo bisogna dirselo. Ma abbiamo fatto anche una proposta, cioè accanto a quella che è la raccolta differenziata diciamo gestita dall'ente pubblico, abbiamo pensato di protocollare, quindi portare al dibattito del consiglio comunale, poi al voto, un regolamento per il compostaggio domestico. Che cos'è il compostaggio domestico? Spieghiamolo per chi non sa niente di questi argomenti. Allora, intanto noi ad oggi se facciamo la raccolta differenziata dividiamo l'umido dalla plastica, dalla carta o dal vetro e comunque tutto questo viene conferito sempre nelle postazioni o al porta a porta e questo comunque ha sempre un costo da parte dell'ente pubblico perché l'ente pubblico deve poi a sua volta conferire in alcune postazioni particolari per la differenziata e quindi comunque è sempre un onere. Noi cosa diciamo invece col compostaggio? L'umido e soprattutto i resti per esempio di cucina, per esempio la buccia alla frutta o anche quello che rimane dal pranzo alla cena o per esempio il caffè, il tuffo di caffè c'è tutto quello che è umido Organico, materiale organico Organico, può essere messo all'interno di una compostiera e questa compostiera trasforma l'umido e quindi l'organico in un fertilizzante quindi questo può servire soprattutto poi per fertilizzare le piante o anche il terreno è chiaro che non si può rivolgere a tutti cioè chi non ha un balcone grande, chi non ha un terrazzo, chi non ha un giardino non può fare il compostaggio ma se teniamo conto che tutte le periferie della città, la maggior parte hanno un piccolo giardino o per esempio nelle zone condominali dove ci sono anche delle aiuole, dei giardini comuni o per esempio chi ha un terrazzo, chi ha un balcone abbastanza grande può fare il compostaggio La compostiera, da che cosa è composta? Scusate il gioco di parole La compostiera è un contenitore che serve intanto a non far uscire gli odori perché è chiaro che l'organico poi si decompone perché avviene proprio una reazione che trasforma grazie all'aria e l'ossigeno trasforma l'organico in humus e quindi in fertilizzante ma la compostiera va acquistata, è un contenitore particolare che va acquistato ma noi cosa chiediamo? Siccome l'organico non verrà conferito con la differenziale quindi non è un costo per il comune perché rimane al privato noi contemporaneamente abbiamo chiesto al Consiglio Comunale di praticare la riduzione della Tari che va dal 15 al 25% In base alla quantità di conferito, di non conferito, in base a quali criteri? I criteri sono diversi, intanto in base a se è un compostaggio domestico per individuale o per esempio collettivo quindi quello individuale chiaramente avrà una riduzione maggiore perché c'è la possibilità di, come dire, è singolo quello collettivo avrà una riduzione minore, parliamo tra il 15 e il 25% cioè in una tale di 100 euro c'è l'abbattimento di 15 euro per se si fa il compostaggio come avviene? Si sarà un albo del compostaggio cioè i cittadini che vorranno fare il compostaggio devono iscriversi a quest'albo e di tanto in tanto l'amministrazione andrà a verificare se questo compostaggio viene realmente fatto nel momento in cui il compostaggio viene realmente fatto ecco si praticherà questa riduzione della Tari perché non sarà più costo, neanche un costo che deve sostenere l'amministrazione Non bisognerà conferire in discarica questi sacchetti, questi rifiuti quindi sarà un risparmio del comune Sì, rimarrà tutto all'interno dell'ambito domestico per cui non avendo, mentre per la differenziata, ripeto, c'è comunque un costo e quindi noi la riduzione della Tari la vedremo molto più avanti perché è chiaro che la differenziata deve entrare nel regime e noi risparmieremo nel momento in cui andremo a conferire poco in discarica, diciamo indifferenziato qui c'è già un risparmio immediato se pensate a tutto l'organico che noi consumiamo e quindi che andiamo a conferire in discarica quindi materialmente si può praticare la riduzione della Tari già questo in qualche modo lo facciamo per esempio alcune persone magari buttano il tuffo del caffè nella pianta o per esempio le bucce della pesca vengono buttate pure per esempio nella pianta è la stessa cosa, solo che il compostaggio non si fa in questo modo perché questo attirerebbe insetti quindi occorre che ci sia una compostiera e noi daremo anche indicazioni dove queste compostiere possono essere comprate anche a prezzo diciamo minore ma sicuramente c'è un grosso risparmio uno perché inquiniamo di meno e due perché potremmo appunto avere la possibilità qualora il consiglio comunale decidesse di fare la riduzione della Tari perché poi chiaramente noi siamo all'opposizione non abbiamo i numeri per poter decidere nulla e quindi l'appello che faccio al gruppo consigliere del Movimento 5 Stelle è quello di lavorare a questo regolamento del compostaggio domestico e insieme andare a votare in maniera diciamo all'unanimità la riduzione della Tari secondo diciamo i criteri che vengono che sono stati concepiti in questo regolamento il Partito Democratico per concludere è pronto ovviamente a modificare a rivedere anche gli articoli di questo regolamento perché è una bozza che noi proprio perché crediamo nelle istituzioni democratiche mettiamo nelle mani di tutti i consiglieri comunali e non è una decisione diciamo presa dall'alto o presa da chi comanda quindi perché crediamo che alla fine per i problemi che riguardano la città è fondamentale il dibattito e il confronto e lo scontro all'interno del Consiglio Comunale Per questa settimana abbiamo concluso vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima puntata vi ricordiamo che questa trasmissione va in onda il sabato alle 12.30 sul canale 19 di Tele One e in replica la domenica Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti